benvenuti spettatori di le fonti tv a un nuovo episodio del nostro instant focus parleremo anzi continueremo a parlare di finanza alternativa un canale veramente chiave per le piccole e medie imprese dell'economia italiana soprattutto in termini di diversificazione all'accesso al credito rispetto al sistema tradizionale bancario e in questo focus noi ci focalizzeremo soprattutto sull'innovazione digitale la tecnologia che ha consentito lo sviluppo e l'affermazione del fintech e lo faremo con gli ospiti che mi hanno raggiunto qui in studio ovvero Alessandro Toschi founder e CEO di M Advisor benvenuto grazie dottoressa grazie per l'invito grazie a lei e il dottor Karim Sgaier il signor advisor di M Advisor benvenuti anche a lei dottor Sgaier grazie mille buongiorno buongiorno ben trovati a entrambi bene allora riprendiamo un discorso che avevamo iniziato la scorsa volta ecco nella scorsa tavola rotonda dove abbiamo fatto una panoramica dei vari strumenti della finanza alternativa mini bond green bonding voice trading crowdfunding ecco tutti questi strumenti che sono stati abilitati proprio dalla tecnologia e quindi le chiedo innanzitutto dottor Toschi se possiamo considerare l'innovazione tecnologica come proprio il motore della finanza alternativa e quali step evolutivi ha consentito rispetto al passato grazie innanzitutto per la domanda dottoressa assolutamente in linea con quello che proprio è il termine fintech sotto un certo punto di vista l'altra volta avevo opportunamente visto la domanda fatto una brevissima distinzione tra fintech e techfin dove la dirimente è sempre quella dell'utilizzo della tecnologia quindi come viene utilizzata la tecnologia in entrambi in entrambi i casi ed è chiaro che se guardiamo il fintech la tecnologia è effettivamente il driver con il quale la finanza si è a mio modo di fare di vedere evoluta sotto altri profili a livello soprattutto qualitativo perché la tecnologia se per alcuni versi può sotto un certo punto di vista spaventare o comunque preoccupare per quelli che potrebbero essere i suoi sviluppi e che stiamo vedendo soprattutto negli ultimi mesi dall'altro canto c'è da dire che invece la tecnologia è sicuramente un fattore competitivo un fattore che porta un valore aggiunto alle imprese e agli strumenti che le imprese oggi possono utilizzare la tecnologia andrà sempre più ad affinarsi e sempre di più sarà a supporto di scelte finanziarie o scelte imprenditoriali ecco perché gli strumenti che ci dava prima appunto della finanza alternativa green bond mini bond invoice trading crowdfunding sono strumenti che sono stati resi possibili e oggi presenti sul mercato proprio perché esiste la tecnologia ovviamente quello che oggi vediamo e lo indico con commissione di causa perché stiamo vedendo anche con il dottor sgaier gli sviluppi che l'intelligenza artificiale la tecnologia in generale sta avendo anche soprattutto oltreoceano è solo l'inizio di un mercato quello appunto della finanza tecnologica o della finanza alternativa che sicuramente sarà al nostro modo di vedere dirompente nei prossimi anni soprattutto per quello che riguarda le nostre piccole e medie imprese del territorio italiano certo ecco sicuramente un mercato in forte espansione anche perché gli sviluppi dell'intelligenza artificiale e del machine learning sono continui e non sappiamo esattamente dove arriveranno questo è un punto di domanda che poi ecco cercheremo di affrontare nel proseguo della discussione mi rivolgo ora al dottor sgaier ecco per parlare dei vantaggi poi della tecnologia e dell'innovazione digitale ce ne sono tantissimi beh innanzitutto la semplificazione ma non solo ecchi quanti altri ce ne può citare io direi che i due primi punti sono uno la velocità secondo il costo perché la tecnologia attuale permette di sistemizzare idee e di creare parlo per esempio del mercato di mini bond adesso dei fintech che io ho visto adesso svilupparsi in svizzera ancora di più un mercato parallelo di mini bond però già sistemati perché dobbiamo sapere che quando si crea un mini bond una prima cosa che è la creazione del bond quindi la parte legale che già avete velocizzata e la seconda parte che è molto importante per l'investitore potenziale è il rating adesso c'è doppia fintech quindi c'è un'altra fintech che crea questi shadow rating o rating che possono essere in coordinazione con delle agenzie classiche di rating però si fa in modo automatizzato e quindi direi che già velocizzare sulla parte mini bond questo permette di sminuire i costi e creare dei bond è un'offerta molto più ampia e molto più veloce e quindi una reattività anche da parte degli investitori quindi questo è la prima grande vantaggio direi per cominciare ecco allora velocità tempistiche quindi costi semplificazione abbiamo già insomma un pacchetto notevole ecco di quello che la tecnologia può contribuire a fare e abbiamo detto ecco che questo sviluppo digitale innovativo tecnologico è destinato ad affermarsi sempre di più grazie all'intelligenza artificiale ne stiamo parlando ormai ininterrottamente ecco da quando soprattutto chat gpt è esplosa e ci sono delle applicazioni naturalmente anche relative al mondo finanziario ecco dottor toschi torno da lei proprio per chiederle quali sono le applicazioni dell'artificial intelligence nel campo della finanza allora partirei da un discorso un po più ampio se mi ha consentito dottoressa nel senso che mi piacerebbe iniziare facendo una piccola battuta ma che ha una concretezza secondo me molto interessante quando è stata e lo sappiamo tutti chat gpt in qualche modo bannata sul nostro sul nostro territorio nel nostro paese nel momento in cui poi si è riaffacciata il messaggio che chat gpt ha dato ai propri utenti non era quello dell'essere ritornati quindi we are back ma il messaggio era welcome back italy questo cosa significa che noi come paese dobbiamo affrontare questa sfida mettendoci diciamo dalla parte giusta in cosa significa mettendoci e concretamente immaginando di rinnovare o innovare ecco la cultura delle nostre nuove generazioni perché quello che oggi fa paura è semplicemente la non conoscenza di tecnologie che sempre di più stanno crescendo e sempre di più scopriremo ma la non conoscenza non deve assolutamente essere una barriera d'ingresso per gli sviluppi nel nostro paese e questo ci tenevo a dirlo perché perché tutto quello che noi potremmo immaginare con l'intelligenza artificiale sarà un qualcosa che oggettivamente oggi potenzialmente non comprendiamo ancora se io mi riferisco a un dato del world economic forum tale per cui nel giro di 5 10 anni i bambini che oggi fanno le elementari svolgeranno dei lavori che oggi non esistono almeno il 65 per cento di questi bambini svolgerà dei lavori tra 5 10 anni che non esiste allora lì ci rendiamo conto che stiamo attraversando un passaggio di paradigme enorme sul lato finanziario ancora di più e forse a livello esponenziale perché perché siamo partiti con il fintech dove la tecnologia è stata ad ausilio della finanza e adesso arriviamo all'intelligenza artificiale che immagina finanza o quindi predige in qualche modo finanza e prevede tutti quelli che possono essere gli scenari in ambito finanziario si arriverà e ne parlavamo qualche tempo fa sempre con il dottor sgaiera quel concetto di finanza predittiva quindi del predire un evento prima ancora che accada questo porterà sicuramente tantissime opportunità ma dall'altra parte come tutte le medaglie l'altro lato sono ovviamente i rischi che tutto questo potrà potrà avere l'impatto che potrà generare su questo una nota importantissima dovrà arrivare a livello regolamentare regolamentare europeo e dare delle direttive molto chiare e inquadrate dove un tema molto importante sarà quello di capire a livello etico come l'intelligenza artificiale può effettivamente essere da supporto e non essere invece un qualcosa che va a sovrastare l'intervento umano c'è sempre necessità di un binomio e di un doppio binario per evitare che uno dei due si sovrapponga con l'altro certamente sì il dibattito anche etico è intenso e l'abbiamo visto poi ecco ha parlato del blocco di chat gpt nel nostro paese ecco tutti i rischi anche legati alla privacy alla sicurezza dei dati insomma sicuramente è uno strumento di grande portata all'intelligenza artificiale ma bisogna anche saperlo maneggiare perché come tutti insomma gli strumenti di grande portata porta dei vantaggi ma anche come diceva lei un lato oscuro della medaglia quello legato ai rischi e proprio io qui ecco torno al dottor Sgaglie per chiederle ecco quali sono i numerosi potenziali rischi legati all'intelligenza artificiale un po' io paragonerei con l'inizio di internet 20 anni fa 30 anni fa purtroppo abbiamo visto che anche i creatori di internet adesso come l'abbiamo visto sui creatori dell'intelligenza artificiale certi sono messi indietro perché hanno detto che quasi la creazione è andato fuori dai mani del creatore al di là di questo abbiamo annunciato anche molti periodi all'epoca su internet non si sapeva chi non usa internet adesso l'intelligenza artificiale è un po' un nuovo internet di adesso io mi occupo di una scuola internazionale vedo che i nostri figli e la nuova generazione dovrà sapere usare questi mezzi e chi non lo saprà usare come chi non sa adesso usare un computer o internet non può andare nel mercato del lavoro facilmente e sarà sempre tenuto a parte quindi l'intelligenza artificiale ha invece una specificità e che in teoria pensa per sé o dovrebbe essere in un certo forma di autonomia dove questo c'è un lato oscuro e se non ci rivolgiamo ai peggiori film di science fiction terminator o altri possiamo chiederci se realmente abbiamo un'intelligenza che è capace con un obiettivo negativo di fare dei danni sia sui mercati che sia sulla planeta perché ormai siamo le città tutto è gestito in modo digitale anche anche le armi anche il nucleare anche tutto però se non siamo totalmente parano aici e contro questo è un fenomeno ormai che non potremmo fermare anche perché le gaffa non si fermeranno di svilupparlo quindi dovremmo imparare a vivere con queste c'è un lato etico sarà molto difficile per i governanti di sempre avere una legge in fase con il sviluppo perché sappiamo che purtroppo il sviluppo anche la velocità esponenziale di sviluppo prendo c'è GPT ma se ogni tre mesi abbiamo un miglioramento sappiamo che per fare votare una legge si prende un anno magari due e ancora per impostarla è ancora una cosa più complicata invece abbiamo visto che ci sono dei tool per delle intelligenze artificiali parlo nel mondo educativo che conosco un po e sicuramente anche a livello dei mercati finanziari si svilupperà sicuramente come adesso esistono comunque dei bot senza l'intelligenza artificiale sappiamo che su mercati azionisti per esempio ci sono i bot sono già automatizzato quindi l'AI è soltanto un'estensione di questi bot potenziali con un'altra cosa che non è magari è stata sufficientemente sottolineata l'analisi del big data ormai adesso l'AI può leggere tutto ciò che si vede su internet di trend su parole chiave analizzarle combinarle insieme in modo intelligente per predire almeno poi ne stavamo parlando con il dottore Toschi cosa succede quando abbiamo i stessi segnali perché poi ci sarà l'AI dell'AI analizzare quindi veremo che comunque ci saranno dei incroci e anche chi vuole gestire soltanto con questi segnali dovrà essere attento che altri bot non prendono in considerazione abbiamo visto nel passato tra l'altro mi sa che era sul nasdaq dei momenti di crolli generati da un bot che è andato male che ha fatto crollare per un po' poi si è fermato quindi saremo molto attenti perché ovviamente il rischio che vedo che è molto concreto che abbiamo già vissuto ma che potrebbe essere peggio è un crollo dei mercati per un errore per un'interprezione sbagliata abbiamo già visto sui primi analisi dell'intelligenza artificiale che ogni tanto non avendo il parametro umano dietro interpretano con gli algoritmi e qui come sono delle scatole nere non si sa esattamente fino a che punto l'algoritmo può analizzare ma saremo sempre con questo rischio e secondo me comunque gli attori adesso perché se ne parla l'hanno in mente quindi possiamo sperare che comunque un po' di legislazione su questo sarà presente in considerazione certo sì vuole ecco sì aggiungere una cosa dottor sì perché mentre parlava il dottor Sgei mi viene in mente questo che proprio nell'ambito della tecnologia e credo in particolare sul tema dell'intelligenza artificiale è laddove il paradosso di Zenone si manifesta in maniera più violenta possibile no il rischio più grande sono assolutamente d'accordo non è l'utilizzo non è il non utilizzo o il come si utilizza è il rischio regolamentare quindi è il rischio appunto del paradosso di Zenone tale per cui molto potenzialmente il legislatore sarà sempre indietro rispetto alla tecnologia e non riuscirà mai a raggiungerla e questo è un problema non da poco perché si rischia di essere continuamente indietro a quelli che sono gli sviluppi non intercettarli mai e quando non si intercetta una cosa la si subisce ecco subire l'intelligenza artificiale potrebbe essere un grandissimo rischio sotto questo punto di vista chiarissimo ecco no certamente il panorama dei rischi non è da sottovalutare anzi lo abbiamo sufficientemente analizzato e insomma l'intelligenza artificiale lo abbiamo detto è ormai un qualcosa che sta prendendo talmente piede non solo nella finanza ma in tutti gli ambiti che non potremo ecco farne a meno in futuro tanto che io riporto e con le parole mi sono sembrate interessanti di uno scienziato americano che ha detto no la battaglia del futuro non sarà uomo contro macchina ma uomini che sanno utilizzare le macchine contro quelli che non le sanno utilizzare perché questo è lo scenario che ci attende però ecco il fattore umano resta comunque importante io vi chiedo in un mondo in un futuro in cui la digitalizzazione l'intelligenza artificiale il machine learning avranno la prevalenza il dominio ecco il fattore umano che ruolo avrà lo chiedo a entrambi aggiungo una cosa perché viene completamente la cosa nuova è il rischio di una disinformazione maggiore dal mio visto perché adesso abbiamo un conflitto dove la disinformazione è un'arma parlo del conflitto ucraina-russia però ne abbiamo altri e l'intelligenza artificiale può fare dei danni maggiori immaginiamo delle false notizie mi ricordo ancora questa foto con il povero papa che è stato creata con un vestito balanziaga bianco e che tutti lui stanno arrivato addosso possiamo assolutamente creare il problema che il fattore umano visto anche che i GAFAM e i social network sanno usare diciamo il panico o certe emozioni umane per creare delle reazioni ancora una volta anche se l'informazione è falsa quanto tempo per correggerla e annunciare che è falsa prima che uno reagisce in un certo modo quindi sicuramente il fattore umano rimarrà per me prevalentemente un po' come abbiamo visto su un aereo piloto automatico voglio dire anche se funziona benissimo non volete andare in un aereo senza un vero pilota quindi una supervisione maggiore sarà dove vedo il rischio che si potrebbe essere nei mani brutti perché il problema delle tecnologie è che vengono sempre usate anche in modo negativo per dei motivi che possono essere un obiettivo veramente cattivo e la reazione umana direi di sapiezza per correggere questi errori quindi avremo sempre questo problema qua penso che comunque l'essere umano è in grado anche di creare dei tool con altra intelligenza artificiale per creare delle alerte perché sappiamo anche adesso detettare delle false immagini, falsi discorsi e dovremmo un po' come abbiamo creato i virus creare dei antivirus e avere un monitoraggio che sarà ancora il risultato questa volta positivo dell'intelligenza artificiale dovremmo premonirsi non possiamo ignorare anche i benefici su tanti aspetti di produttività a livello della medicina, dell'educazione dei mercati finanziari, di una migliore lettura del mondo però sarà questo che sarà secondo me l'elemento maggiore del fattore umano e speriamo che l'essere umano avrà questa conscienza di premonirsi contro questo Ecco, dottor Toschi Io sarò sincero, forse un po' in controtendenza con Cagliari anzi mi fa piacere che il dottor Cagliari sia così convinto di questo anzi lo ammiro, io sinceramente non lo so sono molto onesto non so che tipo di incidenza avrà il fattore umano in tutto quello che vivremo nei prossimi anni e credo che la risposta di dire non lo so sia l'unica oggi teoricamente coerente con quello che abbiamo davanti posso immaginare che il fattore umano sarà determinante come lo è sempre stato perché l'intelligenza artificiale se esiste esiste perché c'è stato un fattore umano che l'ha generata e sempre ci sarà un fattore umano dietro che come diceva giustamente Cagliari invece l'uomo è sempre stato centrale io per tutta una serie di attività che portiamo avanti che conosce dottoressa in tutto l'ambito della sostenibilità e quant'altro continuiamo ad insistere su un nuovo ruolo dell'essere umano quindi una società che abbia l'uomo al centro cosa che oggi purtroppo è un concetto che si è perso moltissimo dove l'uomo oggi è un corollario di tantissimi utilizzi di oggetti e di strumenti ma non è mai l'uomo che governa gli stessi ma sono gli stessi che governano l'uomo e l'abbiamo visto con i smartphone, con i social e quant'altro ecco l'unico mio punto di domanda è se ci sarà un fattore umano ci dovrà essere l'importante che non sia alienante e alienato rispetto alla tecnologia perché come dicevamo prima questo potrebbe essere sinceramente un grande rischio sì 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 chiaro ecco di diventare un po' soggetti alle macchine di farci controllare rispetto al nostro controllo su di esse assolutamente servili rispetto alla macchina servili assolutamente ecco ha citato una parola chiave tra l'altro nella sua risposta che è quella della sostenibilità ne abbiamo parlato appunto negli altri appuntamenti il legame proprio ecco tra sostenibilità e finanza alternativa con riferimento particolare ai criteri ISG introduciamo appunto in questo nostro appuntamento un terzo elemento un terzo fattore che è quello della innovazione digitale ecco che equilibrio a questo punto si crea tra questi tre elementi diversi allora un connubio perfetto mi verrebbe da dire perché sono tre elementi che si vanno a sposare tra di loro e mai a litigare perché l'uno è d'ausilio all'altro dove in tutto il tema della sostenibilità e della finanza e quindi anche della sostenibilità aziendale di imprese e criteri ISG l'innovazione digitale ha un effetto oggettivamente dirompente il padre del pensiero scientifico Galileo disse misurate ciò che è misurata e rendete misurabile ciò che non lo è oggi abbiamo tutta una serie di strumenti per misurare performance e quindi criteri ISG, dati ISG e l'intelligenza artificiale su questo ci darà un'enorme mano perché ci permetterà di in qualche modo aggregare tutta questa serie di dati studiare, analizzare, predire eventualmente quelli che potrebbero essere gli sviluppi l'innovazione digitale poi consente di raccogliere questi dati tant'è ad esempio la nostra piattaforma si occupa proprio di questo quindi di dare uno strumento tecnologico all'impresa a rispondere a delle domande e ricevere una valutazione quindi un rating ISG facilitato ovviamente dall'utilizzo della tecnologia una piattaforma semplice da utilizzare che permette all'impresa di avere oggettivamente un CRM sulla sua sostenibilità ecco, sostenibilità e innovazione digitale sono due facce della stessa medaglia perché l'una implica l'altra e viceversa la sostenibilità sarà veramente tale laddove avremo sempre di più dati ISG e grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale machine learning e tutto quello che ne potrà derivare potenzialmente oltre che avere i dati potremmo anche vedere quelli che saranno gli sviluppi dalla raccolta di questi dati e questo credo che possa essere il vantaggio più grande che la tecnologia ci potrebbe dare chiaro, quindi insomma un connubio vincente tra questi tre elementi abbiamo parlato ecco durante la nostra discussione anche di capacità predittive dell'intelligenza artificiale a proposito ecco di fare delle previsioni future io ritorno con il dottor Sgayer alla crisi del sistema bancario anche questo è un argomento che abbiamo affrontato nella precedente tavola rotonda e insomma i dati che abbiamo a disposizione in questo momento ci dicono una cosa che probabilmente gli episodi a cui abbiamo assistito nel mese di marzo ecco non sono degli episodi così diciamo singolari ma potrebbero innescare addirittura una crisi di sistema io le chiedo ecco qual è la sua prospettiva naturalmente da osservatore privilegiato e soprattutto ecco quali sono le necessità della clientela in questo momento che si conferma comunque estremamente variabile e difficile da gestire una prima osservazione dal nostro ultimo intervista dove avevamo detto che le banche americane tier 2 che non sono sottoposte a Basilia 3 erano ancora a rischio cosa è successo? fra ancora altre banche sono fallite e quindi vediamo che senza essere troppo pessimisti ma direi che continua una logica di pressione su queste banche per questi motivi tra l'altro e che sono dei motivi molto americani tra virgolette perché ovviamente loro si sono sempre autorizzati a poter ripartire a prendere più rischi e ovviamente mettersi in meno constraint sulle loro banche e quindi crea questo contesto adesso cosa vediamo? nella continuità di quello che abbiamo detto l'altra volta una grande richiesta sulle strategie liquidità che abbiamo anche proposto e discusso dove si gioca a un orizzonte mensile piuttosto che di orizzonti molto lunghi c'è un impatto dell'inflazione che rimane maggiore si completa perché abbiamo visto che con i problemi climatici l'inflazione anche ho visto sulla produzione di arance su tanti altri continua ad avere un impatto forte dall'altro lato abbiamo visto sulle materie prime con il conflitto che si continua quindi sempre una visione a breve termine con strategie liquidità con delle cedole interessanti legate alla volatilità che riusciamo a portare e anche una visione un po' più fixed income su dei price placement decorrelati del mercato e qua entriamo sempre nella parte alternativa di quello che proponiamo abbiamo visto la settimana scorsa un grande successo sul nostro convegno e dove ancora una volta un grande interesse perché tanti ante presidenziali erano presenti sulle nuove strategie alternative che possono essere a disposizione quindi con sempre l'idea di giocare in modo alternativo quindi decorrelato di mercati quindi abbiamo sempre questa richiesta e ovviamente loro devono ottimizzare sotto constraint come le diciamo perché le ante devono per forza non possono permettersi le perdite che hanno avuto perdite maggiore mediamente in 2022 devono per forza in 2023 trovare delle soluzioni e delle strategie che le consentano di avere una minima di renditività e una protezione del capitale quindi c'è tutta questa discussione che abbiamo adesso e ovviamente la qualità a seconda dei prodotti dell'emittente sottostante e qua vediamo che ci è richiesto anche molto di selezionare e al di là del pay out dei prodotti e delle strategie sottostante veramente per chi emette in modo di obbligazioni la qualità e chi ha rischio soprattutto sui emittenti bancari perché la crisi bancaria ha creato adesso una dicotomia nella selezione tra le banche che sono diciamo too big to fail se possiamo dirlo così ma veramente too big to fail perché abbiamo visto che il Credit Suisse come Lehman Brothers a tempo fa è uscita di questa logica o comunque ha fatto paura e e si combina questa valutazione del rischio sottostante dell'emittente e un pay out astuto quindi noi siamo molto impegnati con queste richieste perché è veramente dove si gioca e vediamo che la gestione più tradizionale long only che si è preso comunque comunque ha sofferto tanto in 2022 e un po' messa da parte per quello che in tanti clienti istituzionali la parte alternativa poche alternativa si sono allargate con una gestione che combina in più un rating ESG perché c'è tutto questo in combinazione con l'aspetto ESG c'è tutta una questione anche della fiducia insomma che torna da parte degli investitori mi sembra un po' il punto centrale visto che anche gli istituti tradizionali che in realtà hanno mostrato delle fragilità delle debolezze prego dottor Turchi adesso c'è un altro tema su cui stiamo lavorando ovviamente per clienti istituzionali che riguarda l'agenda 2030 2050 quindi stiamo lavorando appunto anche a tutta una serie di soluzioni sulla decarbonizzazione dei portafogli degli enti istituzionali che per legge devono abbassare ovviamente la loro componente diciamo di carbon all'interno dei loro portafogli e questo è un tema appunto ISG che adesso è sui tavoli dei principali enti previdenziali istituzionali fondi pensione e quant'altro quindi tema alternativo tema sostenibilità come vediamo dottoressa alla fine riescono sempre in qualche modo ad incontrarsi lungo la stessa strada è un qualcosa che sicuramente è molto positivo secondo me e per come la vediamo noi per il lavoro che facciamo certo ecco procederanno sempre di più abbraccetto questo inevitabilmente non solo lo abbiamo detto per una questione normativa ma soprattutto per una questione culturale sta cambiando proprio la cultura di base ecco di questi temi sicuramente è importante parlarne continuare a parlarne abbiamo più volte sottolineato l'importanza del dibattito e voi in questo come AM Advisor siete davvero in prima linea perché periodicamente organizzate questi momenti di confronto tra il mondo istituzionale e il mondo imprenditoriale tra l'altro delle realtà che faticano talvolta a parlarsi ecco dalle proprio le ultime eventi che avete organizzato quali sono i temi più importanti che sono emersi prima il dottor Sgaier poi facciamo concludere al dottor Toschi allora l'ultimo convegno era martedì scorso era molto interessante perché avevamo veramente responsabilità di investimento ESG di maggiore anteprevidenziali o fondi pensioni in Italia la prima cosa che a me mi ha stupito ma anche molto interessato è che tutti parlando delle loro difficoltà di interpretazione veramente della legge di quello che è richiesto nelle loro mandati in un modo teorico poco pratico che rileva dell'interpretazione che ogni tanto viene rimesso in questione la prima fase della discussione era anche perché tutti sono resi conto anche se si conoscono che hanno tutti questa difficoltà interpretare il loro mandato di investimento sotto i nuovi criteri ESG come interpretarli e concretamente cosa accettare cosa non lo è sapendo che loro sono a rischio se interpretano male o se non rispettano hanno comunque una pressione legislativa anzi penale quindi o non fanno nulla non prendono rischi niente succede o devono interpretare quindi ancora una volta e ce lo siamo detti dopo il convegno e ci hanno ringraziato tanto per questo convegno il fatto di poter scambiare sulla loro interpretazione e poi di sapere perché c'è una grande discussione tra di loro di sapere se ognuno interpreta il suo standard e magari si sbaglia o allora le maggiori ente previdenziali o fondi pensioni con le 10-12 più grandi in Italia decidono di imporre il loro standard e dice questa è la nostra interpretazione e se noi non lo facciamo se lo facciamo male siamo 12 a farlo male però non ci potete tutti mettere in galera o a farci dei problemi perché se no niente va quindi era interessante e anche la soluzione non è semplice ma c'è l'approccio top down e bottom se mi posso permettere di quello e anche loro il fatto anche di discutere perché noi paragoniamo anche quello che si fa all'estero in Svizzera in Europa a Londra è interessante perché così sapendo che comunque direi lo spirito del testo legislativo ISG è consistente quindi sapere come in un altro paese l'hanno interpretato perché adesso noi abbiamo portato queste strategie sulla decarbonizzazione che sono portate la Germania e la Svizzera che adesso ormai i miliardi sono stati investiti è proprio un spirito di interpretazione germanica della cosa come adesso viene perché non esisteva in Italia e con I'm Advisor siamo molto felici di introdurli sul mercato permette alle ente italiane di avere un punto di riferimento e di riflettere poi con delle interpretazioni che possono essere leggermente diverse ma comunque fondamentalmente si sa che funziona e sono delle strategie che sono state sviluppate per dei specialisti universitari tra l'altro e che hanno interpretato veramente in modo molto molto preciso e sofisticato le richieste legislative quindi vedo che questi ponti di discussione secondo me dato il contesto e la pressione che hanno sono molto utili per loro mi veniva adesso che sentivo Carim effettivamente c'è un po' questo tema prima parlavamo dell'intelligenza artificiale di come si rischia che l'uomo o meglio il legislatore sia sempre un po' indietro alla tecnologia ecco forse in SG è stato un po' l'opposto nel senso che si è sovraccaricato di legislazione in un tema che oggettivamente ancora culturalmente non era pronto per arrivare sul mercato e quello che vediamo è proprio questo diceva giustamente il dottor Sgaier e l'evento diciamo di martedì l'ha un po' testimoniato non che gli altri non l'abbiano fatto ma credo che martedì si è giunti un po' tutti a questa conclusione tantissime norme una regolamentazione molto stringente che sempre di più diventerà stringente ma come si applica ecco la domanda è banale semplice ma ha una gravità enorme perché se un ente istituzionale se una cassa di previdenza se un asset manager che deve appunto investire per sua natura non sa o comunque ha difficoltà ad interpretare quel tipo di norma e capiamo che allora a volte la regolamentazione dà a volte la regolamentazione toglie e quindi dobbiamo anche fare sempre come dire un ragionamento su cosa è giusto e cosa è veramente diciamo meglio in quel momento per non rischiare di come dire tapparci le aree da sole i convegni che facciamo effettivamente stanno testimoniando ormai il sesto che organizziamo insieme al dottor Sgaier come al di là di parlare di un argomento specifico di una regolamentazione di una norma e quant'altro il dibattito il dialogo con la conversazione le riflessioni che vengono fatte durante questi convegni potenzialmente sono ancora molto più utili dello studiarsi la norma perché? perché si capiscono i trend si capiscono come vengono applicati da taluni soggetti piuttosto che ad altri e soprattutto poi come diceva giustamente Karim confrontandosi tra pari si capisce dove si sta sbagliando dove si sta facendo bene ecco fare questo cioè creare un dialogo tra operatori istituzionali operatori bancari finanziari e imprese che lo dico da sempre sono l'unica e sola risorsa che può fare e dare un impatto al nostro paese perché gli investitori possono investire ma l'investimento alla fine finisce sempre nell'economia reale e le imprese che ha un impatto sul territorio ecco se noi riuscissimo a creare e a semplificare questo dialogo e trasferire questi capitali verso le imprese che però hanno un impatto nel medio e lungo termine sul nostro pianeta credo che allora avremmo raggiunto il nostro obiettivo certo chiarissimo insomma il dialogo anche come un momento veramente di confronto positivo per tutte le realtà per tutti i player anche perché come diceva dottor Toschi magari si chiarificano anche dei punti che non sono così limpidi si può aggiustare il tiro e quindi ecco diventa un momento veramente importante poi appunto che ricade in maniera concreta come dicevamo nell'economia reale io vi ringrazio davvero per il vostro contributo per averci regalato le vostre riflessioni in questa tavola rotonda dedicata a finanza alternativa intelligenza artificiale sviluppo digitale tecnologico e quindi io ringrazio ancora e saluto il dottor Alessandro Toschi founder e CEO di M Advisor grazie a lei e a voi sempre per l'invito dottoressa e grazie anche al dottor Karim Sgaier signor advisor di M Advisor grazie mille grazie per l'invito grazie a voi bene si conclude qui questo nostro focus dedicato appunto alla finanza alternativa non si conclude naturalmente la programmazione di Le Fonti TV che prosegue allora mi raccomando restate con noi grazie a voi grazie a voi grazie a voi